Ho voluto una banca senza sportelli né code, costruita intorno all'uomo per dare più valore ai suoi valori. Una banca che viene da te con i suoi uomini. L'ho voluta sempre aperta, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Con un colpo di telefono, operi sui tuoi conti e li controlli sul televisore di casa. E se preferisci internet, basta un clic sul computer. Questa è la mia banca. Forse è la banca che stavi aspettando. Banca Mediolanum, costruita intorno a te.